Sarebbe bello se i video di YouTube si potessero modificare e aggiornare successivamente in maniera dinamica dato che la situazione cripto del momento è talmente fluida che tempo che questo video andrà online sarà probabilmente mezzo obsoleto ma bisogna sforzarsi di fare qualche riflessione a caldo dopo che il 2022 ci ha regalato il secondo enorme tsunami grazie al crollo della piattaforma FTX e della società di market making Alamida Research che erano due società collegate e ci ha fatto capire che forse sarà il caso di togliersi gli occhiali colorati di rosa e imparare ad analizzare con spirito molto critico e con la lente di ingrandimento tutti i progetti cripto nessuno escluso escluso neanche quello che era uno dei crypto exchange centralizzati più grossi come capitalizzazione uno dei più rispettati, quello con l'interfaccia costruita meglio, la più veloce, con le funzionalità più avanzate con la liquidità più alta, anche sugli strumenti derivati insomma se uno voleva fare trading di criptovalute seriamente e soprattutto con somme grandi meglio di FTX non c'era nulla, la sua autorevolezza era innegabile fino ai primi di novembre 2022 solo che poi hanno iniziato a venire a galla tutta una serie di rivelazioni che hanno fatto innervosire parecchio il CEO di Binance, Xiangpeng Zhao che aveva investito molto molto denaro in FTX quando FTX era stata fondata intanto c'erano articoli online su Xiangpeng Zhao di gossip proprio che lo diffamavano poi chiacchierate su Zoom in cui il fondatore di FTX, Sam Bankman Freed, che è scritto Freed quindi mi viene da pensare che questa persona sia un banchiere fritto cioè è interessante come alcune persone abbiano il loro destino scritto nel nome e lui in queste chiamate su Zoom faceva capire come avesse lobbizzato tanto Washington per tagliare le gambe alla DeFi e avvantaggiare invece un po' il sistema bancario tradizionale e poi la sua piattaforma centralizzata appunto FTX e poi però soprattutto sono venuti a galla documenti finanziari riservati che riguardavano il bilancio di FTX e di Alameda Research che facevano capire come sì c'erano 7 miliardi di attivo nel bilancio ma solo grazie a strani magheggi primo tra tutti la presenza nel bilancio di 2 miliardi e passa di controvalore in dollari del token FTT, il token della piattaforma che è un token che serve per avere sconti a chi fa trading ma che è comunque un token molto poco liquido con una tokenomics tale per cui tanti fondi sono bloccati quindi l'idea che si possa utilizzare questo token per sostenere il bilancio di una società trattandolo come fosse del vero denaro contante che si può spendere è veramente assurdo perché questo è un token che basta buttarne pochi milioni di dollari sugli exchange e già il prezzo si affossa e infatti si è visto come il prezzo di FTT abbia sofferto la decisione di CZ di buttare sul mercato tutti i token FTT che Binance possedeva che erano stati il pagamento che FTX aveva fatto a Binance per aver fatto un buyback delle quote della società il CEO di Binance ha temuto l'insolvenza da parte delle aziende di SBF come conosciuto Sam Bankman-Fried su Twitter e anche se apparentemente a malincuore a giudicare dai suoi tweet molto accorati in cui dice che il crollo di una società nel mondo cripto è un problema per tutto il mondo cripto ed è una tragedia ebbene comunque ha immesso sul mercato tutti gli FTT in loro possesso e penso che neanche lui potesse aspettarsi che questo avrebbe portato al tracollo totale nel giro di 24 ore di FTX va detto che FTX in teoria a differenza di Celsius non prestava gli asset degli utenti come faceva Celsius che poi gli prestava pure male solo che poi è venuto fuori in realtà che i token FTT presenti nel bilancio venivano utilizzati come collaterali per ottenere prestiti e quindi lì si è capito che c'era stato spostamento di capitali anche tra FTX e Alameda Research per mantenere a galla l'azienda utilizzando però i fondi degli utenti ebbene lì il token ha perso il 90% del valore nel giro di poche ore e a quel punto neanche con i mille tweet di SBF rassicuranti con tono british grandissimo a plomba neanche con quello si sono potuti rassicurare gli utenti c'è stato un bank run pazzesco, rapidissimo proprio l'abbiamo potuto vedere con i propri occhi prelievi in uscita rallentati sempre di più FTX che non incassa neanche più un dollaro perché non ci sono più transazioni, non c'è più trading e tutto il castello che viene giù con una rapidità che ti lascia veramente estordito con molti utenti lasciati in possibilità di recuperare i fondi per la seconda volta nel 2022 dopo il crollo di luna viene immediatamente da fare riflessioni su quanto sia bella l'anarchia del mondo cripto finché però qualcuno poi non si fa male a causa dell'ingordigia di quei pochi che hanno una faccia tosta totale che mentono spudoratamente fino all'ultimo che si approfittano della mancanza di regole chiare e mentono non solo agli utenti ma come è venuto fuori anche ai dipendenti della piattaforma FTX che poveretti si erano molto esposti su FTT e quindi il nostro cuore va verso di loro anche mentre il grande capo per ora se la cava stando alle Bahamas e facendo tweet in cui dice che gli dispiace che è stato incauto che è stato poco trasparente dopo essersi approfittato quasi da psicopatico di tutti coloro che in un mondo cripto ci credono veramente comunque probabilmente finirà in galera anche se come abbiamo detto ha lobbizzato tanto si è fatto amici potenti che potrebbero proteggerlo perché va detto che Alamida Research è un'azienda, un market maker enorme con circa il 10% di tutte le criptovalute che venivano scambiate sul mercato circolava un meme secondo cui il mondo cripto fosse di proprietà di SBF e noi siamo degli abitanti, dei cittadini che ci stanno dentro è un po' assurdo, va detto che piattaforme come FTX abbiano potuto operare finora senza una prova di copertura finanziaria sì, bello, sono fighe da usare, molto potenti però che succede se di colpo tanti 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 utenti decidono di ritirare i soldi? i soldi nelle casse ci sono? o invece le casse sono per tre quarti vuote e alla fine vi è fuori che anche questo è uno schema di ponzi e quindi chiediamoci e gli altri? Binance, Coinbase, Nexo, Crypto.com, eccetera c'è da dormire, sono i tranquilli? è chiaro che ogni caso è diverso e insomma si spera che non siano messi tutti così male però FTX sembrava solido e questa vicenda era impossibile da prevedere quindi solo un folle a questo punto si azzarderebbe a rassicurare una platea sulla incrollabilità degli altri progetti proprio in queste ore vediamo che BlockFi ha bloccato i prelievi anche se c'erano voci da tanto tempo sull'insolvibilità di BlockFi Tether ha traballato pericolosamente perdendo il PEG anche se sembra averlo recuperato mentre USDD che invece è l'algoritmica lo stablecoin algoritmico del mondo Tron è ancora lì che balla il principio di cautela dovrebbe quindi portarci a dire senti sai che c'è? io le chiavi delle mie cripto me le gestisco io divento poi un massimalista Bitcoin i miei fondi me li metto su Cold Storage al diavolo le rendite passive sulle stablecoin perché più importante del sonno notturno non esiste niente nelle nostre vite dall'altro lato rode veramente tanto doversi abbandonare a tutto questo cinismo e all'idea che non ci si possa fidare proprio di nessuno che poi io personalmente e questo è not financial advice penso che comunque sia sbagliato come atteggiamento sarò un ottimista la sensazione che invece ho è semplicemente che di progetti cripto di ogni genere e di generi ce ne sono tanti ce ne siano troppi troppi rispetto all'utilizzo reale che per ora se ne fa delle cripto che intendiamoci nel futuro diventeranno parte integrante delle nostre vite con calma con calma ma che per ora rimangono tanto tanto autoreferenziali quindi veramente non ha molto senso che ci siano sul mercato tutti questi attori tutte queste società che tramite venture capital creano queste piattaforme attirano gli utenti con grandi incentivi regalando soldi a destra e sinistra e poi alla fine però qualcuna deve crollare cioè non è possibile che restino tutte in piedi e quindi il 2022 è un reality check nient'altro è un doloroso ma necessario processo di selezione darwiniana ci sta facendo capire che un qualche tipo di regolamentazione ci vuole anche in questo settore perché se no chi ne fa le spese al di là degli utenti poverini sprovveduti sono i progetti cripto solidi e creati in buona fede che intendiamoci esistono devono esistere se non altro anche solo per una questione di grandi numeri intanto pensiamo ai progetti che erano esposti su FTX che adesso rischiano effetto domino come Solana Serum Aptos Sui che non sto dicendo che siano questi progetti meritevoli però è comunque sconcertante vedere come sia tutto collegato e ci possa essere un effetto veramente devastante generalizzato lo stiamo vedendo in tempo reale e poi appunto c'è il povero Bitcoin che non fa il tempo a respirare un attimo come all'inizio della settimana e poi però arriva un'altra mazzata come questa che insomma crea di nuovo sentimento negativo anche se per sua natura Bitcoin sarebbe immune da manipolazioni come quelle di token ultracentralizzati stile FTT solo che viene da chiedersi ma quante altre botte come questa Bitcoin può sopportare prima che la rassegnazione e la sfiducia diventino talmente grandi e poi magari i miner iniziano a essere veramente sotto sotto stress per cui non dico che Bitcoin muoia perché quella mi sembra veramente fantascienza ma comunque se arrivi a un crypto winter veramente da holocausto nucleare ieri 10 novembre e anche oggi parrebbe che c'è stato un rally generale della finanza dovuto a dati macroeconomici che fanno respirare per ora e per ora ma il mondo cripto così come adesso senza regole non è quello che avremo in futuro grazie a tutti Grazie a tutti.